rieccoci e allora senza perdere senza perdersi in ulteriori chiacchiere dato che ne ho già date tante nel primo blocco saluto e ringrazio per la disponibilità come sempre nicola para in collegamento con noi ciao nicola bentrovato ciao ciao giacomo buon pomeriggio tutti e allora ti vengo a chiedere un po la un'analisi della giornata di oggi in europa aspettando wall street giornata negativa per più motivi ne abbiamo gli abbiamo spiegati quelli che riguardano il mib perché insomma se ci sono quattro grandi banche che danno i dividendi e insomma perdono quello che perdono inevitabile vederlo sul meno col meno 1 per cento vediamo anche il dax come diciamo fotografare la seduta di oggi siamo a meno 0,9 per cento 15.448 che dici può essere un segnale o oppure no allora giacomo oggi effettivamente gli indici stanno un po anche giustamente prendendo respiro stanno facendo una fisiologica discesa dopo tre quattro giorni di forti salite insomma la settimana scorsa praticamente è stata caratterizzata da giornate quasi tutte positive a parte forse la prima e con minimi e massimi crescenti ogni giorno rispetto al giorno precedente quindi dei trend di artisti ben definiti belli puliti nel brevissimo periodo e oggi questa giornata importante perché il lunedì è sempre una giornata molto direzionale che che sancisce un po la direzione di tutto il resto della settimana peraltro nicola ti interrompo perdonomi ma solo cinque secondi per dare una notizia appena uscita il primo etf sui future bitcoin che è una delle notizie del giorno insomma e che ha fatto discutere le scorse settimane farà il suo debutto sul nice martedì ha affermato pro shares che di fatto è la prima compagnia che appunto aveva in qualche modo promesso l'uscita dell'etf sul future bitcoin poi ci torneremo più avanti ma ci tenevo a dare subito questa notizia scusa l'interruzione nicola no no importantissima giacomo anche perché insomma aspettavamo l'approvazione da parte della sec e insomma era una notizia nell'aria già da da giorni da settimane finalmente insomma è arrivata sta arrivando l'ufficialità e io farei anche una una doppia lettura di questa notizia da una parte più passano gli anni più passa il tempo e più bitcoin diventa uno strumento e le cripto in generale diventano uno strumento istituzionalizzato accettato e quindi insomma il futuro penso sia roseo no e se prima non lo accettava nessuno e veniva vista come una moneta virtuale utilizzata solo per scappare il pagamento di riscatti di qualche marigoldo oggi viene accettata da tanti enti privati da tante aziende da tanti stati e insomma dopo il dicembre se non erro 2017 quando il cmi di chicago crea il primo future su bitcoin adesso abbiamo questa notizia che è un è un ulteriore passo avanti nella istituzionalizzazione di bitcoin quindi ciò penso che possa rappresentare un altro passo per un futuro erosio di bitcoin però attenzione perché su un breve periodo momenti come questi come accadde nel 2017 possono essere l'occasione del classico buy on the rumours e sell on the news no quando poi arriva la notizia effettivamente ufficialmente positiva effettivamente reale la possiamo annunciare la possiamo toccare con mano magari succede il contrario nel breve periodo possiamo addirittura pensare che si possano fare dei massimi importanti in questi giorni e vedere per assurdo un bitcoin in discesa non è assurdo è già successo nel 2017 sui mercati succede spesso e volentieri così e gli operatori cercano sempre di anticipare queste notizie importanti e poi quando arrivano diventa quasi l'occasione per portare a casa il il profitto no quindi la speculazione che si è fatta sull'attesa di una notizia quando diventa reale si trasforma in un'occasione di di realizzo dei guadagni messi messi a segno quindi massima attenzione perché nel 2017 dicembre quando chicago il mercato si è mi fa tradare bitcoin future nasce bitcoin futures abbiamo fatto dei massimi a 20 mila dollari molto importanti che bitcoin non ha rivisto per parecchio parecchio tempo quindi massima attenzione anche se nel lungo periodo insomma non ho dubbi che che abbia che abbia un gran futuro il bitcoin e le cripto in generale torno sui mercati sì sì no no ma anzi insomma la tua riflessione graditissima è assolutamente centrata al riguardo eravamo esatto sul sul dax poi ovviamente lo ricordo anche agli amici a casa c'è marcello che ci ha già mandato una domanda se avete domande su insomma su qualche titolo nicola è a disposizione eravamo appunto sulla sulla settimana dell'europa partendo più o meno da francoforte sì eravamo sugli indici ovviamente anche bitcoin fa parte dei mercati eravamo sugli indici quindi torno sugli indici e parlando del dax si farei un'analisi molto semplice che riguarda tutti gli indici principali europei americani stiamo andando sotto i minimi della giornata di venerdì per esempio il dax in questo momento a 15.430 è un 15 20 punti più basso dei minimi raggiunti nella giornata di venerdì dobbiamo secondo me monitorare proprio quel minimo quel 15.447 per catalogare il ribasso di oggi come un piccolo ritracciamento all'interno di un trend long di breve periodo che nei giorni scorsi è stato anche abbastanza forte oppure per far sì che questo ribasso se chiudiamo sotto i minimi di venerdì la giornata di oggi diventi qualcosa di più importante si trasformi addirittura in un'inversione di tendenza di breve periodo e allora cambiamo ancora una volta totalmente totalmente visione appunto per il brevissimo periodo quindi parlo di un'operatività di pochissimi giorni staremo a vedere la giornata è ancora lunga adesso apre wall street poi ci sarà chiusura del cash europeo e alla fine alle 10 la chiusura dei future europei del cash americano saranno tutti orari e momenti importantissimi ripeto non solo sul dax ma su tutti gli indici monitoriamo i minimi di venerdì e guardiamo con attenzione se la chiusura di oggi avverrà sotto e sarà negativo oppure al di sopra perfetto e intanto questo grafico orario sul sul dax meno 0,9 per cento che mantiene più o meno invariata la sua perdita anzi vediamo come l'ultima ora ci sia una sorta di ulteriore segnale ribassista per quanto riguarda francoforte sarà che appunto i future americani danno in danno indicazioni appunto di debolezza ti chiedo anche nicola poi andiamo a rispondere a marcello agli altri amici un una view anche su quello che sta accadendo nell'ambito della forest in particolare su euro dollaro perché siamo a 1 e 16 in questo momento tondi tondi con il dollar index che si sta rafforzando nuovamente sul proprio paniere principale eravamo un paio d'ore fa sotto i 94 a 93 e 7 circa adesso nuovamente in area 94 e con euro dollaro appunto in area 1 e 16 tondi tondi sicuramente soglia psicologica nonché forse anche livello spartiacque correggimi se sbaglio ovviamente nicola sì sì assolutamente giacomo guardavo il dollar index in questi giorni giovedì e venerdì era stato abbastanza fermo magari se riesco torno vado anche in condivisione dello schermo perché eravamo vicinissimi ai massimi annuali che poi erano stati fatti veramente da da poco sul dollar index avevamo aggiornato i massimi storici quando insomma il tema tapering no da parte della federal reserve era diventato una certezza ora ci chiediamo soltanto quando arriverà e non se se arriverà quando è diventato certezza abbiamo superato i i massimi giornalieri i massimi annuali pardon vado in condivisione dello schermo dicevo e parto proprio dal dollar index eccolo qua dovreste vederlo un po' di sì sì un po di suspense e adesso ce l'abbiamo perfetto eccolo qua il il 12 il 13 ottobre aveva di pochissimo aggiornato il precedente massimo annuale che l'aveva fatto soltanto pochi giorni prima al 30 settembre e poi è tornato indietro a quel punto giovedì e venerdì è stato praticamente fermo ha provato ad allungare il ribasso ma poi chiudeva le giornate praticamente a zero e ha fatto due giorni di fila la stessa dinamica di prezzo ma oggi sta succedendo la stessa cosa oggi viceversa ha provato a salire ed è tornato indietro è un po' fermo è un po' inchiodato vicinissimo ai massimi annuali perché effettivamente per quanto è un po' il discorso sul bitcoin fatto prima no per quanto l'arrivo di un tapering di una politica monetaria restrittiva da parte di federal reserve possa per forza di cose far rafforzare il dollaro di solito il rafforzamento noi lo vediamo prima gli operatori si muovono in largo anticipo no per esempio da giugno da quest'estate il dollar index è passato da da 89 a 94 largo circa e lo sappiamo gli operatori si muovono in anticipo quindi siamo un po' di fermi sui massimi annuali dobbiamo capire se c'è ancora spazio rialzo per il dollar index e quanto spazio ci sarà e poi magari succede come con bitcoin no il 3 novembre nella riunione della federal reserve oppure il 15 dicembre nell'ultima riunione dell'anno powell annuncia effettivamente l'inizio del tapering e magari il dollaro fa dollaro americano fa i veri massimi annuali e poi e poi da lì da lì non sale più quando quando la notizia diventa davvero ufficiale mi sposto di conseguenza sull'euro dollaro che ha un grafico praticamente uguale ma contrario se ultimi tre giorni siamo fermi lì chiaramente i movimenti sono opposti perché il dollaro americano si trova al denominatore di questo cambio del cambio principale e sia sempre fermi la io favorito l'operatività long anche nella giornata odierna avevo un 1 15 85 come livello buy lo posso anche far vedere senza problemi eccolo qua avevo condiviso ieri un 15 1 15 85 chiaramente ognuno suo rischio pericolo me compreso con 40 pips di stop e 40 di target per adesso la posizione sta andando bene è stata anche in sofferenza durante durante la mattinata adesso è tornata in in profitto mancano una ventina di punti una ventina di pips abbondanti per il target che non a caso è a 1 16 e 25 mi sono posizionato sui massimi di giovedì questo livello qua è proprio a testimonianza di come non mi aspetto nuovi massimi o nuovi minimi di brevissimo periodo da parte di euro dollaro me lo aspetto un poli fermo senza una direzionalità ben precisa alla stregua chiaramente di di dollar index e questa situazione sta impattando su tutti i cambi principali e non perlomeno tutti i cambi con il dollaro nei quali è presente il dollaro perché questa non direzionalità di dollaro americano fa comandare le altre monete di solito di solito il dollaro e avendo i flussi i volumi più importanti è quello che fa muovere i cambi invece il dollaro è praticamente fermo e quindi su tutti i vari cambi e comandano sostanzialmente le altre monete che fanno parte della coppia e quindi si sono create situazioni anche di non correlazione rispetto alle ai movimenti classici di correlazione diretto inversa che siamo abituati ad osservare il mercato forex è interessante in questi giorni ci torneremo poi sulla forex osserviamo anche come l'euro stia guadagnando lo 0 e 17 sulla sterlina ad esempio scusate il dollaro lo 0 e 17 per cento sulla sterlina che perde a sua volta anche lo 0 e 3 per cento dall'euro ma la sterlina ha corso tanto soprattutto la settimana scorsa io mi sono già posizionato caro nicola sul titolo gabetti perché è la domanda che ci arriva da parte di un nostro amico un'analisi insomma del di questo titolo questo è un grafico settimanale ma che ci permette ugualmente di osservare cosa succede oggi essendo a inizio settimana 0 al momento siamo l'andamento sul mercato 1 e 91 euro d'azione vedo molto vicini insomma ai massimi in area 2 che non venivano infranti da da sette anni un po come il petrolio anche se le valutazioni sono leggermente diverse nicola eccolo qua giacomo ho messo già un grafico sulla mia piattaforma non ho nemmeno tolto la la condivisione dello schermo e insomma osservandolo nel lungo periodo un titolo che sicuramente sia non è un titolo molto molto tradato è un titolo sottile rispetto ai titoli principali del paniere e infatti i movimenti sono molto molto ampi sicuramente da qualche anno da dai minimi della crisi covid da un anno e mezzo due a questa parte è in un bel trend crescente molto molto forte e quindi tendenzialmente cercherei dei livelli di acquisto sul titolo è un po a un prezzo questo 1 91 1 92 che non è né carne né pesce nel senso che se viene confermato il trend rialzista è chiaro che devono essere superati questi due euro ma deve anche se essere superato il massimo a 205 quindi io mi aspetto un 2 10 un 2 15 un 2 20 per per il titolo come nuovo massimo e viceversa però i classici movimenti di ritracciamento quindi quei movimenti contrari al trend principale che ci danno l'opportunità di comprare a prezzi momentaneamente più bassi il titolo lo ha già fatto lo ha già fatto quest'estate l'ho già fatto addirittura nel mese di agosto quando è sceso addirittura fino all'area di 1 60 e poi insomma ha lateralizzato ha fatto la classica fase di congestione di riaccumulazione per poi risparare verso l'alto quindi siamo un po equidistanti da quello che potrebbe essere un nuovo massimo da parte del titolo sopra i 2 0 5 a conferma del trend long e al tempo stesso siamo equidistanti da questo minimo di ritracciamento di pullback che il titolo ha già fatto quindi insomma è un po un livello intermedio sul quale farei fatica ad essere ad essere operativo è chiaro che stringendo nel brevissimissimo periodo uno può anche provare a comprarlo dato che il titolo è forte a questi prezzi se poi però chiude una giornata sotto i minimi di giovedì quindi area 1 88 bisogna prendersi la perdita viceversa se ha la forza di ripartire verso l'alto e superare finalmente i 2 euro di cui tu hai parlato prima a quel punto ci si mette uno stop in pari si prova a lasciar correre il profitto il più possibile andiamo adesso su euro tech che ci chiedono due amici da casa euro tech oggi abbiamo un più 1 35 per cento peraltro con un tentativo di aggredire i 5 15 poi venduti dal mercato ma che comunque permette al titolo di mantenersi positivo è una seduta sicuramente interessante anche perché arriviamo è la quinta seduta consecutiva positiva cinque candele verdi in euro come dicono gli states consecutivi e che in qualche modo interrompono una caduta libera che sembrava dall'otto dall'otto settembre in cui invece il colore prevalente è stato il rosso nicola sì giacomo è vero e adesso io lo guardavo su un grafico un po più di lungo periodo no parto sempre da lontano quando devo analizzare un titolo che non seguo solitamente non seguo quotidianamente poi piano piano zoom e mi avvicino sempre di più agli ultimi giorni giusto così non ha non ha avuto un bel movimento negli ultimi anni anche la crisi la crisi covid lo ha lo ha penalizzato come penalizzato tutto il mondo tutti i mercati finanziari qualsiasi assetto settore però purtroppo come vedi non è non è mai riuscito a tornare all'inizio dei massimi pre crisi covid e anzi addirittura aveva aggiornato nel mese di ottobre novembre scorso i minimi della fine crisi covid almeno quella che è stata la fine crisi covid per tanti indici per i principali indici mondiali quindi un titolo che non ha forza effettivamente va va detto non ha forza nel lungo lunghissimo periodo però è anche vero che negli ultimi giorni è partito un trend rialzista di breve brevissimo periodo di breve brevissimo respiro quindi quest'area dei cinque è sicuramente un un livello dove provare a cercare delle entrate long per secondare questa tendenza rialzista ti direi che addirittura il salitone di oggi e il successivo ritracciamento che sono venuti all'interno della giornata odierna potrebbero addirittura dare un'occasione di buy a questi prezzi ripeto per secondare la salita poi se finiamo sotto i minimi di oggi quindi sotto area 498 ci chiudiamo in perdita altrimenti proviamo a lasciar correre la posizione volevo zoomarlo volevo zoomarlo proprio sul sul 15 minuti su sei frema 15 minuti per vederlo questo questo ritracciamento perché ripeto oggi c'è stato un nuovo allungo verso nuovi massimi e nella stessa giornata c'è stato anche un ritracciamento che potrebbe essere il classico ritracciamento contrario al trend principale che ci dà occasione di acquisto quindi forse già i livelli di prezzo attuali per un'operatività veloce di breve respiro possono essere livelli da utilizzare per un buy per provare ad assecondare questa salita forte che si vede da una settimana questa forza di breve che c'è sul titolo e poi ripeto sotto i 4 98 ci si ci si eventualmente ci si chiude in stop viceversa si si prova a lasciar correre il profitto come come sempre bene far perfetto e l'ultimo titolo che ci che ti chiedo salutando fabio e lorenzo che ci hanno che ci hanno scritto è sugar frames rimaniamo quindi fuori rimaniamo tanto perso tutto vediamo se recupero ci vi dai codice si si arrivo arrivo è che mi è sparito tutto insomma quando a volte tocchi qualcosa di cui non ti accorgi allora il ticker è savona como k ed è un titolo che è anch'esso molto leggero molto sottile e ci rimaniamo fuori da piazza affari ma rimaniamo come scusate fuori dal fuzzimi ma rimaniamo comunque su piazza affari nel daily vedo che ha una candela rossa perfetta sembra quasi una marubozzo più 0 95 per cento in questo momento come detto il titolo molto sottile e sta consolidando vedo sostanzialmente tra i 6 e 6 e 6 e 2 nelle ultime nelle ultime 10 15 sedute ma nicola ti restituisco la parola ci si giacomo si vede bene che un titolo sottile lo si capisce già dal grafico quando ci sono tutti questi buchi tutte queste spike addirittura assunta in frame giornaliero si capisce subito che che è un titolo che insomma ha probabilmente un book molto vuoto bisogna stare attenti su questo è bisogna aprirlo sempre il book quando si trada un titolo come questo perché magari si rischia di andare a comprare al meglio o vendere al meglio insomma comunque effettuare l'esecuzione di un ordine ad un prezzo poco conveniente spesso su titoli come questo magari ci sono non soltanto un centesimo di spread fra il bid e l'ask ma magari ce ne sono due tre quattro cinque sei a seconda dei momenti ed è sempre bene insomma posizionarsi in mezzo cercare di iniziare a stuzzicare il book a stuzzicare anche quelli che sono i market maker i liquidity provider gli specialist tutti quei soggetti che vengono pagati da dalle borse per dare liquidità ai mercati per dare liquidità ai vari strumenti compreso questo titolo e quindi magari cercare di mettere dei prezzi all'inizio magari che sappiamo che non verranno eseguiti perché non ci mettiamo magari sul primo livello disponibile ma magari al contrario ci mettiamo sull'ultimo però è un modo per stuzzicare chi è dall'altra parte io ho lavorato in banca e la banca letti e in banca imi ho fatto anche il trader conto terzi non solo conto proprio quindi non facevo solo trading con i soldi della banca ma l'ho fatto anche come esecutore degli ordini dei nostri clienti istituzionali e insomma era importante anche a volte ci chiede direttamente una rfq no si fa una request for quote a chi c'è dall'altra parte a un market maker e ci si mette d'accordo poi vengono fatte le proposte vengono vengono messe direttamente anche sul book però insomma sapendo come ragiona dall'altra parte chi c'è dall'altra parte dall'altra parte del book rispetto a noi insomma provate a fare in questo modo cercate di mettere inizialmente dei prezzi avidi usate il bracino corte poi piano piano magari alzate un pochettino parentesi penso che a livello operativo possa essere spero sia molto utile tornando al titolo comunque un titolo forte lo si vede anche su un grafico di medio lungo periodo e anche venendo al breve c'è il titolo in salita lo si vede bene negli ultimi mesi a partire da quest'estate possiamo tirare quasi una trend line no che congiunge questi minimi a mano a mano sempre più crescenti sul sul titolo quindi io direi che pronto ad esplodere Giacomo c'è una sorta di canale rialzista no e siamo molto vicini a questo a questa zona di minimo relativo al supporto dinamico piuttosto che alla resistenza dinamica che magari riusciremo a trovare congiungendo questi massimi e quindi io penso che il titolo sia davvero pronto ad esplodere comprandolo a livelli come questo si ha chiaramente uno stop piccolo che può essere magari posizionato sotto l'area dei 6 eventi è un target molto importante perché se effettivamente questo canale rialzista questa sequenza rialzista che dura da quest'estate dovesse essere confermata noi abbiamo la possibilità di vedere un nuovo massimo più alto di quello precedente e quindi andare ben al di sopra dei 7 euro e possiamo calcolarlo in questo modo guarda il precedente massimo era 6,20 il successivo è stato fatto a 6,95 quindi c'è stato un aggiornamento di 75 centesimi da parte di questo massimo rispetto al suo precedente possiamo ipotizzare altri 75 centesimi più in alto quindi andremo addirittura a 7,70 c'è molto più spazio in salita che non in discesa perché ripeto in discesa lo stop è piccolino sotto i 6,20, 6,15, 6,10 dobbiamo stopparci e verso l'alto se effettivamente parte ha molta più strada io ho fatto un calcolo di proiezione dei massimi in valore assoluto sarebbe più corretto farlo in percentuale cioè non andare ad aggiungere a questo massimo gli stessi centesimi di differenza rispetto al massimo precedente ma bisognerebbe aggiungerci la stessa percentuale di salita e non lo stesso numero di punti però per farlo in maniera spannometrica e soprattutto velocemente un 7,70 potrebbe essere un target molto molto ghiotto e molto ambizioso Per chiudere su Shuker Frames ricordo una notizia che riguarda oggi e che ha determinato la spinta importante che abbiamo visto per questa seduta ha superato i 173 milioni di portafoglio ordini il gruppo attraverso la sua controllata Ecopace ha firmato 7 nuovi contratti di appalto del valore complessivo l'ordo pari a 16,6 milioni il numero di contratti sottoscritti da Ecopace raggiunge quota 68 Shuker, lo ricordiamo, attivo nella produzione di finestre ecosostenibili nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica inoltre ricordo ulteriore che è una notizia proprio di questa mattina è quotato all'AIM Italia e in sostanza il backlog residuo dell'intero gruppo è pari a 173,1 milioni di euro 15,31 Wall Street ha dato il via alle contrattazioni come detto negativa, meno 0,4 lo Standard & Poor 4453 punti all'interno dei valori della vigilia Dow Jones 35107 anche in questo caso meno 0,5% all'interno dei valori di venerdì ricordiamo che insomma venerdì lo Standard & Poor ha registrato la miglior seduta da marzo e archiviato la miglior settimana da luglio Nasdaq meno 0,27 il composite con pattern ribassista potenziale Nicola Para grazie per essere stato qui con noi ricordiamo sempre seguite Nicola scusate sta a partire un altro starnuto ma abortito dicevo seguite Nicola sui social e nel canale Telegram Nicola Paratrading buon lavoro Nicola e buon proseguimento di settimana grazie Giacomo chi come noi è allergico all'Ambrosia vive il periodo di ottobre peggio della primavera quindi ti capisco guarda io uno starnuto a diretta lo tiro sempre quindi è matematico anche perché poi insomma in studio un po' di polvere ci finisce sempre a recondizionate eccetera eccetera quindi teniamo duro è normale è normale come dicevi Giacomo Nicola Paratrading soprattutto su Telegram è il canale dove condivido più contenuti per chi mi vuole seguire insomma gratuitamente grazie dell'invito come sempre e buon trading a tutti Giacomo Nicola Paratrading